Ehi, spero. Io e Chrishell stiamo visionando una villa stupenda a Pacific Palisades per un suo cliente con figli in arrivo e un budget niente male. Ok, adoro. Che spettacolo. Dopo il confronto con Chrishell ed Emma alla residenza Goldstein, volevo verificare che fosse tutto a posto, così le ho chiesto di accompagnarmi. Oh, è un cinema. Ebbene, sì. Carino. Il mio cliente in realtà cercava casa in un'altra zona molto tranquilla. E qui c'è la stessa atmosfera. Oh, guarda, è un piano per i ricevimenti. Bello.